Questo perché? Perché si sottovaluta una serie di cose, si sottovalutano una serie di cose che poi alla fine fa la differenza. Quindi quando lo ballate, ti dimetti il tocco. Per forza. Vi sono spiegato? Se tu lo balli così, sembrerete sempre più... Giuseppe, sempre indietro al tempo. Una finca a te, e tu c'hai là il tocco. Quello lo spegni, perché? Quello è sempre avanti al tempo. È fuori cadenza. E tu sei là... E lo do... E. Spegni. Lo spegni. Grazie. Grazie.